Narezzo vince ancora fuori casa, 1-0 a Sestri Levante, terza vittoria consecutiva lontano dal comunale. Troise lascia fuori dagli undici Mavuli per la prima volta e inserisce Santoro, la sua prima da titolare. Davanti fuori Patarello e dentro Guccione a completare il tridente con Tavernelli e Eugonsei. Il Sestri di Scotto risponde con il 3-5-2 con Paravicini e De Felici a guidare l'attacco. La prima occasione dei padroni di casa con Rosetti che da fuori tenta con il sinistro, ma Trombini blocca, compiendo in sostanza l'unica parata della sua partita. Risponde l'Arezzo con un cross di Tavernelli su cui Lazzarini trova il tempo per colpire di testa, ma non trova la porta. Ancora Maranto con Santoro che lancia dalla propria metà campo, Eugonsei salta al limite dell'area e riesce ad imprimere direzione al colpo di testa che costringe Anacoura a mettere in corner. Poco dopo dalla bagnerina tocco corto di Settembrini per Guccione, cross al centro dove si avventa di nuovo Lazzarini che anche stavolta però non riesce a trovare lo specchio. Dopo due minuti del secondo tempo, Settembrini, Guccione ripropongono lo stesso schema da calcio d'angolo e questa volta funziona benissimo. Chiosa gli sponda di testa per Tavernelli che di destro schiaccia il pallone e batte Anacoura. Vantaggio Arezzo e secondo gol di stagione per Camillo Tavernelli dopo quello contro la Ternana. L'Arezzo non si ferma e spinge ancora dalla sinistra. Tavernelli per Santoro che a sua volta tocca ad esterno filtrante per Coccia che entra in area, la rimette in mezzo tagliando fuori Anacoura ma nessuno dei suoi compagni è pronto a dare la zampata vincente. Si rivede anche il Sestri con questo colpo di testa di Raggio Garibaldi che si perde sopra la traversa di Trombini. Al 79esimo Mavuli ruba palla a metà campo, serve Pattarello che non si fida del suo destro per Gucci e torna da Mavuli. Cross che attraversa tutta l'area di rigore dove ad attendere c'è proprio Gucci che segna ma tutto viene annullato per fuorigioco del numero 28. Amaranto che provano a chiuderla definitivamente, pasticcio difensivo, Gaddini è scaltro a recuperare e servire Pattarello che controlla e calcia con il sinistro di poco alato. E' ancora Pattarello che su un pallone recuperato sulla metà campo viene lanciato a tu per tu con Anacoura ma il portiere gli va incontro e vince il duello con il 10. L'Arezzo continua la sua marcia nella parte alta della classifica con una prestazione convincente e con la quarta vittoria del campionato per 1-0. Pochi gol segnati, vero, ma l'Arezzo nelle ultime sette ha anche subito solo tre gol e questo è un dato che può fare solo ben sperare.